Buongiorno a tutti, sono Angelo, Disney, facciamo parte dell'Artistic Defense, siamo qui all'Ereton Comics di Monte Rotondo, abbiamo portato il nostro stand, la nostra esposizione porta soprattutto maschere completamente fatte a mano, plastica, vetroresina, tutto quello che volete noi ce l'abbiamo. Facciamo un cosplay su ordinazione, questo è il bigliettino, su Facebook, su Twitter ci trovate dappertutto, quindi qualunque cosa, qualunque informazione, Artistic Defense, un saluto da Eraton Comics. Grazie